Non si placa la polemica sui cassonetti per la raccolta degli abiti usati. Il Comune di Como sta preparando il terzo bando di gara per l'assegnazione del servizio con un canone annuo di 400 euro per ciascun contenitore. In attesa della gara e circa 60 cassonetti presenti nel capoluogo e gestiti da Umana e Cooperativa Orizzonti che fa capa la Caritas dovranno essere rimossi entro la fine del mese, quindi domani. Ad intervenire sulla questione ancora una volta il consigliere comunale di Civitas Bruno Magatti che nei giorni scorsi aveva sollevato il caso puntando il dito contro l'amministrazione per il canone annuo troppo elevato. Siamo di fronte ad una gara completamente fuori mercato, spiega Magatti che sottolinea due aspetti della vicenda. Il primo relativa appunto alla qualità del bando e il secondo che riguarda invece l'impossibilità di prorogare il servizio fino all'espletamento della prossima gara. L'economia del riciclo deve essere un'economia remunerativa. Dai nostri calcoli, ma non soltanto nostri, anche da quello che dice Anci noi siamo di fronte invece a una situazione come nel bando di Vasto che noi abbiamo analizzato, nel bando di Como in cui invece l'attività risulta assolutamente diseconomica cioè coloro che dovrebbero fare questa attività dovrebbero anche metterci dei soldi. Questa cosa non può reggere. Infine Magatti si rivolge all'amministrazione mantenere ostinatamente le posizioni assunte sul tema degli abiti usati certificherebbe un'inadeguatezza logico-politica del sindaco e di questa giunta a danno degli abitanti della nostra città. Manca completamente un indirizzo, manca una direzione. Sappiamo che tra due giorni le cooperative e le aziende che hanno i cassonetti dovrebbero rimuoverli. A noi sembra questo un esito inaccettabile. Abbiamo chiesto nelle more di una nuova gara evidentemente di mantenere i cassonetti la cosa non sembra all'orizzonte se non eventualmente per le ultime ore che ancora mancano all'ultimo di maggio.